Ehm, ciao! Oggi siamo andati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi Quello che dovremmo fare è molto semplice Andare avanti, come nella vita Quando c'è un ostacolo devi andare avanti Non riniziamo da più dei canali ogni volta Che inizia un video Come funziona questa sfida? In quel pilastro dice Marci, il nostro obiettivo è quello di allungarci Il più possibile verso di là, ogni blocco Sarà un punto, ma io potrò interferire nella sua vita E lui potrà interferire nella mia vita E ogni tot secondi avremo degli oggetti Casuali, che spawneranno Il primo è questo qua per entrambi Io ti consiglio di usarlo bene Per esempio Perché ci metterà un po' a crescere Quindi sarà un problema fare il giro Abbiamo fatto letteralmente la stessa cosa Sì, però non so se è stata una buona idea Ma che culo cosa ho un corallo Ho una candela avevo Mi dispiace tanto assai Allora l'idea è quella di venire però anche verso di te Perché in quel modo Sì, ma metta te, metta io al ponte Non posso fare tutto io Io non vengo da te Ma ragazzi, ma un oggetto Dai È zero di zero Zero, almeno un blocco di legno che diventa quattro Beh, il blocco di legno Tra poco ti cresce l'albero, in teoria Ma io l'ho chiesto, zio Stavolta c'è di scomodo che i blocchi Spawnano sul blocco E non sul mio inventario Mi mette un po' di difficoltà Mi mette un po' di... Cosa mi è successo? Ma perché a te è cresciuto il coso a me, no? Non lo so, ma mi sono spaventato Però... Ma io l'ho messo prima di te, bro Non è giusto sta cosa Eeeh, senti, Minecraft è fatto così Eccolo Il problema è che ora Questo albero va ripiantato E bisogna anche riprendersi i subling Perché altrimenti è un casino Quindi allargerò la piattaforma E ho trovato anche dell'altro legno Quindi... Che sai che cosa faccio? Ho un'idea Dimmi Ho un'idea Ah, intanto mi faccio una crafting table Che secondo me serve Idea interessante E la piazzo qua sul lato Poi faccio delle slab Che ho fatto pure io Poi E allargo leggermente la zona Interessante poi E poi allargo ancora leggermente Oddio, nooo A me non mi ha dato nessun subling Oddio, come? Non mi hanno dato... O forse sono caduti nel void Può essere che sia caduti nel void Però spero per te di no Vengo a prenderti un paio di subling Allora, dai Aspetta che facciamo così Così Se arrivi metto i vendicator, te lo dico Ma perché devo sempre finire in queste condizioni? Io te lo dico Ho bisogno di un paio di... Un subling Uno in prestito Esce te lo do Però devi levarti Non devi venire No, non posso venire Non dirmi una cosa di questo tipo No, mi metto a piangere Mi lanci un sub... Attento Non è uscito uno neanche a te, mi sa Vero Magari è fatto apposta È stato molto triste però Vabbè Terrò la terra Ho bisogno di... Allora, aspetta Passiamo al piano Non si può... Dai, ma che schifo fa sta modalità Cosa stai facendo? Scusa, fermo un attimo Fermo un attimo Spacca sto blocco Perché? Ma mi metti il coso sulla piattaforma Posso spiaccare i blocchi? Scusami Avvicinati Questo non è corretto Secondo me Ehi, ehi, ehi Ehi, ehi Aspetta che mi arrivi un arco Ti faccio vedere io Ma non posso venire da te Non posso venire da te Ma ho un letto Il letto mi porterà avanti Verso la vittoria Ho bisogno di qualcosa Di legend Un arco Un arco sarebbe bello Una balestra Ecco, non un uovo di coniglio Ciao carissimi Un uovo di coniglio Come la mettiamo Alla situazione Era più bello Se potevamo andare Uno dall'altro Però secondo me Anche secondo me Devo dirti la verità Però purtroppo Non dipende da me Questa potenzialità O forse sì Però non lo so Nel dubbio Non l'ho fatto Quindi ormai Lamentiamoci per La vita futura Bello questo Ma sei a 28 blocchi Ma non Non si può Non No, non credo Si possa fare Però la notte Porta con sé anche Varie cose Tra cui mostri Tra cui arcieri Tra cui gambali In ferro Ma tu sei avanti Dissimo Ho bisogno di un altro sapling Può uscirmi un sapling Infatti me ne tengo da parte Ste cose qua Hai un sapling? Che sapling? Ma magari ci avessi il sapling Ma non ne ha troppato A nessuno dei due Ma com'è possibile Una cosa del genere? Una foglia Una foglia? Non so se ti darà un sapling Ho una freccia Non so se ti può servire Prova a spaccare la foglia Magari ti darà un sapling Pese quelle di azzale Diano Sì Danno l'Owak credo Ok Non sono morto Oh porca paletta Non dovrebbe spawnare un warden Tranquillo Non lo so Non spona Però Mi dà fastidio sentire il rumore Ma tu come hai fatto arrivare Molto più vicino a me Rispetto Ciao boh In che senso? Ma no Abbiamo tipo 4 blocchi a testa Vedi qua ho un muro io No Come hai fatto da fare così tanti blocchi Se hai 22 E io sono morto con tipo 20 blocchi nell'inventario Ho un blocco d'oro Cosa può servire un blocco d'oro? Niente Oh questo cosa Come lo piazzo qua? Purtroppo Ho sbagliato Cosa hai sbagliato? Eh ho piazzato un blocco dove non dovevo Ma lo puoi Ho fatto pure io la stessa cosa Ma puoi riprenderli comunque Tranquillo Puoi riprenderli se non ti vengono i blocchi Perché hai fatto no? Era un interrompere la mia parlata Ho delle La smetti? Non ho fatto Ho Ho detto no Non ho fatto no Ho bisogno di una stringa Di un arco O di una canna da pesca Che sarebbe ancora meglio di stringa e arco Se devo dirtela tutta Però per ora vado un po' avanti Ok Ti ho un po' ripreso? Sì ti ho un po' ripreso Ora Nel chilling Si torna indietro Saldo E non ficcate No 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 Importa Abbiamo qualcosa che mi serve? Non abbiamo nulla Molto bene Però tu non hai capito nulla Io non ho capito nulla? Va bene Hai un uovo di snowman? Magari Quello magari Eh quello non credo Possa uscire Cioè in realtà si può uscire Ma sarebbe molto un colpo di culo Allora Una luce Oh mi hai superato Cavolo La luce non conta come blocco La luce conta come blocco Ma è inutile Perché poi devo ripiazzarcelo sopra Ho un sapling Oddio Ti prego Come ti è uscito il sapling? Scusami Credo sia spawnato lo spawn È un sapling di jungle Ho un altro sapling Anche di cherry Il cherry è enorme Ok Ha il jungle che è enorme No il jungle da solo non è enorme Oh ma è già cresciuto No ma io non ho sapling bro Non hai sapling Ma non è un problema Li troverai prima o poi Un blocco viene generato ogni 3 secondi Quindi è abbastanza di culo Ma 3 secondi sono pochi Ma tu con legna arrivi a tipo 200 adesso Ho capito Sì vabbè Il sapling era bello Perché era pari prima Ma secondo me E' fatto apposta Che non droppo i sapling E perché te ne ha droppati? Eh sì Me ne ha droppato uno Vabbè vado a dice Due Ne vuoi uno? No fa niente Dove sei finito scusami Pronto? Sono davanti Ti lascio un sapling qui Ti ho regalato un sapling Ringraziami Dove me l'hai lasciato? Nel void No non è vero È lì Aspetta se mi ha sponato a me non lo voglio Non mi ha sponato a me Vabbè prendetelo dai Però a sto punto mi conviene anche fare un investimento Secondo me Questo è un ottimo investimento Oh un blocco di diamante? Mi è uscito una caccia Ah Allora ridammi il mio sapling Ma sei a 62 poi Oh Devo andare avanti comunque Ho troppe cose nell'inventario Ho troppe cose nell'inventario Quella è un'altra canzone Disco direi che non ci serve Ok vado Ho 64 blocchi almeno da piazzare Però aspetta Potrei piantare un albero Cavolo sono tantissimi quelli Lascerò un cherry qua Ma perché a me non sponano scusa? Posso chiederti sta cosa? Che cosa non ti spona? L'albero non cresce Cioè a te crescono Ma non crescono gli alberi Allora quest'albero è cresciuto appena l'ho piazzato Non so perché Non so se succederà di nuovo Ma sono sicuro che il tuo albero crescerà Dagli forza Devi incitarlo Forse verò il buon mio L'userò Dai ma io ho cresciuto quello bassissimo Ma ragazzi Ma ragazzi Le dimensioni non contano L'importante è quello che c'è dentro Quanti pezzi di legno ha dentro? Solo tre? Pezzi Le dimensioni comunque non contano neanche dell'inferno Ovviamente ti pare che mi abbia dato un sapling? No Ma usa il mio di jungles L'ho usato ma non me l'ha dato il sapling Ah Hai usato il tuo di a casa? Eh ho capito Lo sto usando Eh bravo Io sto andando avanti con i miei slabs Quanto tempo manca? 8 minuti Ancora c'è tanto Da fare Siamo a metà del tempo A metà dell'opera Puoi recuperare Vado torno in base Mi serve anche una cesta Devo svuotarmi l'inferno Anzi Questo è il botone Il void Ragazzi ma io comunque sono veramente uno sfigato patentato Cioè no veramente Ma scherzi Nella vita C'è chi è fortunato in amore In tante cose Ho capito Oh ma almeno non è normale che non crescano mai gli alberi però Ma neanche il mio albero è cresciuto Sì con il pommini No vabbè ragazzi Dai c'è un inghip Qua c'è un È un video dove mi sta trollando Non ho fatto nulla di questo tipo Vuoi una barca? Zio sei a 108 Io non arriverò mai a 108 Ma appena l'albero cresce andrà tutto per il meglio Dagli tempo Vuoi un altro jungle cosone o 4 Ma come è possibile? Non lo so come è possibile Ti giuro che non sto facendo nulla di mangiare Ho appena citato sappilo Che cosa hai fatto? Perché ho lo schermo che è troppo contrastato E non mi sono reso conto di una cosa Perché ti sei buttato nel void? No sì cosa ho messo alla concrete powder Perdonatemi Ammetto di aver citato Ok ho citato Ho citato Ho un blocco di nederite È che questo qua io lo vedo come una concrete nera raga Voi lo vedete giusto Ma io lo vedo come concrete Blocco di nederite Ho un blocco di nederite Non è normale questa cosa Lo posso piazzare Ma cresce sto albero? Hai abbassato il random? L'hai insultato? Perché era più grande del tuo? Quello sì l'ho fatto Credo che abbia interferito Perché il povero coso non cresce più Va bene Vorrei dire che andrò avanti col blocco di nederite Non è un problema Tanto ancora il vantaggio sui zee ce l'ho Quindi posso stare abbastanza tranquillo Bottoni Nah non li uso neanche Però blocco di nederite Ma non c'è tipo un tp spawn Se ti uccidi Perdi l'inventario Ma torna lo spawn Questo è concrete powder Sì Comunque non crescono più gli alberi Game rule Random txp di 100 È già 100 in teoria Mi puoi dire se cresce il mio? Io ho un piccolo in diamante Ma cosa mi serve un piccolo in diamante? Oddio è un blocco in nederite Lo vuoi fare in nederite? No guarda non ho interesse in questa cosa Perché? Perché no Va bene Io ho finito i blocchi da piazzare quasi Tornerò indietro Spero sia cresciuto il mio albero nel frattempo Dai Non penso di chi sia cresciuto A me non cresce l'albero Non deve crescere nemmeno a te Aumento un po' random txp di allora dai È a mille L'ho già messo a mille A mille? Sì a mille Sta a mille Allora secondo me c'è qualcosa che non sta funzionando sai? Ma meno male sta bloccando queste interferenze stupide C'è un'interferenza dici? Si può essere Scusami Dicendo così sembra che io stia facendo qualcosa di scorretto Mi ha fatto solo ridere la situazione Sei a 136 Ehii Ho finito i blocchi ora Andrò a piantarne degli altri Vuoi un salmone crudo? Vuoi avere saturation per favore Almeno saturation dai No quello l'ho aggiunto io Il fatto che ci fosse la fame Perché? Perché hai una testa di drago? Vabbè non devo fare molte domande nella vita Allora Che cosa è spawnato nella mia isola di Averi? Il buon meal Guarda che lui si lamenta intanto sta piazzando blocchi Allora Abbiamo Una meal op Va bene Questa la potremmo usare come cibo per non morire Stimuletti nederite Caschetto Una pala Latte può servirmi? No Via questo Via questo 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 Mazzoma quanti blocchi ci stanno qua? Perché sei in silenzio? Perché sei 146 blocchi? Questi sono i blocchi che avevo nell'inventario Eh mazza Quanto c'è ne ho nell'inventario? Non ancora Va bene Oddio due snowblock Non succede ma se succede Lo snowblock Quello è veramente oppia Non succede ma se succede Oppure una pala in Che cos'è questo materiale? Ferro Quello è veramente Cioè quello lì Ti stringere la mano Perché è una botta di culo così Penso che nella vita Sono skills Ma che skills? E culo è No E qui che ti sbaglio Sono delle skills Ma sei a 160 Oh Mettiti un ditino nel culetto Un attimino Mi buttare qua Accetta piccone E mi lancio Ma dici tu? Ecco mi sono tornato Allora Qua non è ancora cresciuto Sto tizio qua Sì neanche Sto cosa? Sto tizio qua No stavi dando un termine che non No sto tizio qua Ma iniziava con la C Con la C Hai detto non è cresciuto sto No Ma no sto tizio qua ho detto No vabbè Ma mi devo dare fuoco Mi sa Dimmi Hai bloccato la crescita qua Secondo me Ma perché non mi ha dato Cioè mi sono ammazzato E non mi hai dato il cibo No vabbè ragazzi Io mi sono ammazzato E ho perso tutto Va bene lo stesso Dai sono a 168 Non è che sono chissà quanto Sì ma avevo il 2 snowblock Il sapling Il sapling Tanto il sapling non cresce Ma perché non crescono più? Cos'è successo? Io non ho fatto niente Anzi io sono pro per cittare Quindi proprio No non Questo non è No io sono una persona pro a cittare Sì ho capito Ma non è una cosa positiva Hai caduto? No no sono tra l'altro su No senti Questo mi sembra un po' troppo L'hai già fatto una volta Non credo sia il caso di Non si può più fare No io ora credo che tu debba buttarti No no non lasciando le cose lì Va bene dai guarda E ma la shulker L'ho buttato via tutto cretino Sei sicuro? Poi meno La lascio lì La lascio lì non la tocco Dai Hai ragione non si può fare Voglio vederla buttata nel void Va bene però aspettami Voglio guardare questa scena Triste Mi puoi aspettare o Certo sono qui Piazzerò un letto Enderman Spune Gaxolotto Qua c'è uno zoo intero Manca solo due minuti bro Eh due minuti Ma il problema è che Io non ho più blocchi Mi hai superato sì Penso che mi ucciderò Non ti ho superato Aspetta 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 Devo spaccare la shulker Eh ti devi muovere Sto perdendo tempo A parte zi Dove sei? Vai avanti vai avanti Torno indietro Mi uccido C'è il mio pezzo di video Che si vedrà che spacco tutto Eh perbacco Porbacco Eh perbacco Dai sti blocchi non mi passano Per superarti Devo farle queste Come si fa? Ragazzi guardate Spulker la sto spaccando Con la Con l'accetta Presa Spaccato? E buttato nel vuoto Vuoi un delfino? Delfino curioso Niente ancora va avanti quello Ma dove li ha tirati fuori Quei blocchi? Dallo spawn E sono appena spawnati Eh ma io capisco Ma a parte che Me li hai rubati No impossibile vero? Posso rubarli Perché tipo da me Non ce n'era un inventario pieno Po sopra ci arrivo Ah che non ci arrivo E così spreco blocchi però Ma non possiamo aggiungere Tipo qualche minuto? Purtroppo non si può aggiungere Un bel niente Mi dispiace Sarà per la prossima volta Ma tanto qui abbiamo un vincitore Perché purtroppo mi sono buttato nel void Perché sei caduto? Eh mi sono Non è vero Sì ho una zucca Adesso Eh fallo subito Fallo subito Non ce l'ho più Sono caduto Prima Dai cheat Te la veloce Non voglio farlo Hai 30 secondi Non sono una persona di questo tipo Non ce l'ho 188 188 Smettila di fare Cos'è 188? Ma a parte che Ho 20 secondi Non ce la farò mai Devo fare una speedrun Eh sì Ma tu adesso Ti devi ripiazzare Dai Ma è colpa dei sapling Una zucca anche a me Eh ma tu non ce l'hai il coso La neva Ho perso La neva? La neve La neva 3 secondi Ah si chiude proprio il server In 10 secondi C'è neanche il tempo di far lì L'auto Ho capito Sto veramente male Ragazzi Ci vediamo in un prossimo video È stato un piacere Seguirmi Seguirci Volevo Volevo ringraziarvi Perché comunque è stato molto bello Ammetto di aver citato Per la concrete nera Ma io A mia discolpa Vi dico che purtroppo La vedo completamente scura E non pensavo No allora io credo che Sia un pareggio Pareggio dai pareggio Ci sta Io vi saluto Non ci sono più io Però io vi saluto Ciao a tutti Ciao È stato un piacere Ciao 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 Ciao